Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, tra Firenze, Impruneta e Barberino verso Bologna, ci sono 16 km di coda in aumento per un mezzo d'opera in avaria all'altezza del km 271 più 400. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Per i veicoli leggeri si consiglia di uscire a Calenzano. Per i mezzi pesanti e le lunghe percorrenze si consiglia di prendere la A11 in direzione Pisa. Ricordiamo inoltre che tra Firenze Sud e Firenze Scandicci sono chiuse le corsie di sinistra per lavori. Sulla FIPILI per lavori un km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Sulla statale Trebis Tiberina in direzione Ravenna sono chiusi per lavori gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!